Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Snack Plisken, che mi chiede di parlare del film diretto da Roberto Benigni, interpretato da Roberto Benigni, Johnny Stecchino del 1991, è scritto insieme a Vincenzo Cerami con le belle musiche di Evan Lurie, grandissimo successo, il personaggio di Johnny Stecchino è rimasto nel mito per un bel po', è un caldo assoluto di quando avevo 18-19 anni, anche perché insomma è un film abbastanza particolare. È la storia di Dante Ceccarini che lavora a Cesena come autista di uno scuolabus per ragazzi affetti da disabilità, cosa succede? Il nostro però è l'unica cosa che fa è ingannare un'assicurazione facendo finta di avere un tic che alla mano destra praticamente non riesce a stare fermo. Il nostro prova ad andare a una festa per cercare di fare avanza a tutte le donne possibili ma naturalmente ghignate dopo ghignate. Alla sua uscita viene quasi investito da un'auto guidata da Maria e interpretata da Nicoletta Braschi che praticamente rimane come incantata alla visione del nostro e poco dopo sviene. La donna però si rialza scappa e se ne va. Insomma poi i due incominciano ad avere un rapporto, lei incomincia a cambiare gli vestiti, gli mette uno stecchino in bocca insomma e poi scompare di nuovo. Finché dopo Dante distrutto giù di morale praticamente non viene chiamato dallo stessa che gli dice di raggiungere la Palermo e il piano appunto della nostra Maria è quella di riuscirlo a far passare Dante per Johnny Stecchino, questo mafioso che è praticamente identico e che vuole scappare praticamente in Sud America facendo ammazzare lo stesso Dante al suo posto e Maria può stare al gioco e dirì tutto quello che succederà. Per un film da un ritmo veramente micidiale, è Benigni circondato da una Nicoletta Braschi stavolta funzionale, da un ottimo Paolo Bonacelli appunto che fa l'avvocato che fa altro che sniffare che fa tutto quel discorso del traffico in macchina che è la cosa più terribile della Sicilia e di Palermo che è veramente incredibile. Così come sono bravi gli altri comprimari, un ottimo Maria Scotti a fare randazzo per un film che appunto fa ridere ma fa ridere in un certo senso a desti stretti e tutte le scene del nostro che rubava la frutta e che ruba la banana, divertentissime tutte le parti all'interno della casa in cui il nostro praticamente reciterà sia la parte del rincoglionito che quella invece di Johnny Stecchino. E' bravissimo lì Benigni nel suo essere così cattivo, così stronzo. E la Braschi piano piano cambia sempre più di atteggiamento in una buona stavolta recitazione. È arrivato per un film comunque montato molto bene, girato bene stavolta. Da un Benigni che sa dove mette la macchina in appresa e riesce a farci ridere in tantissimi punti. Le gag sono fantasiche quando gli danno dell'assassino e lui lo manda a fare nel culo, è qualcosa di eccezionale. Così come tutta l'ultima parte che è completamente fuori di testa. Convento che questa cocaina continua a essere una cura praticamente per il tipo del diabete, è geniale la cosa. Senza considerare appunto la forza politica comunque con il ministro, il cardinale, tutti inseriti in questa mafia che praticamente è parte del potere. Quindi Johnny Stecchino è un film molto interessante per come è messo in scena, ha una bella fotografia. Riesce ad essere dialogato molto bene, riesce a come ho detto a stupire per questa strana fanciullezza di questo Dante e di questa voglia di amore verso Maria e in un certo senso di questa voglia anche comunque di raccontare un'Italia storta, commedia che funziona sia lo slapstick, Benigni sia un comico attivo che passivo, riesce a far ridere nel suo immobilismo, riesce a far ridere quando la butta di fuori e comincia a correre. Per un'opera secondo me molto interessante. Un Benigni che cresceva, un Benigni che poi purtroppo per me andrà a scivolare, poi farà il mostro e mi divertirà anche velo, ma con la vita è bella scivolerà nel pietismo. Qui era ancora un Benigni che aveva ancora voglia di urlare in faccia a tutti insomma che l'Italia era il paese che era. Come ho detto comunque i nostri fanno veramente ridere e sono grandissime, non sono assolutamente macchiette ma purtroppo probabilmente una parte di realtà della nostra società. Quindi che dirvi di più? Gianni Stecchini è un film che fa ridere, non c'è versi, è un film che fa pensare, è un film che inquieta in un certo senso. Quindi un'opera tutto sommato veramente buona, per me è un cult, ripeto il film che preferisco di Benigni proprio perché riesce a mescolare queste istanze comiche che lui ha, fantastiche, quest'idea però anche di un certo tipo di critica che riesce ad andare finalmente a fondo. Il link è qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il puzzante super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio in giro per l'Italia. Ripeto, Benigni negli ultimi vent'anni praticamente è diventato l'ombra di se stesso in un certo senso e qui però era ancora fresco, ancora aveva voglia di stupire e ancora aveva voglia solo di fare del cinema che fosse sì popolare ma anche insomma intrigante e non solo piagnone.